Un tributo sincero e originale alla città eterna. Si intitola Roma omaggi in versi, il volume curato da Francesca Farine, pubblicato per conto di Bertoni Editore. Il libro viene presentato a Trastevere, dove ha sede l'Associazione Culturale Aleph. È una raccolta in versi, intitolata, diciamo, dedicata a Roma, questa città immortale e immortalata in tutti i sensi, dalla pittura, alla scultura, alla letteratura, all'arte, alla poesia e quindi anche noi abbiamo voluto fare questo omaggio insieme all'editore Bertoni di Perugia, che è un editore veramente molto valido. Da Claudio Damiani a Davide Cortese, da Valerio Magrelli a Letizia Leone, tante le persone che con il loro contributo hanno permesso di dare vita alla spiziosa antologia poetica. È un ritratto assolutamente composito, non abbiamo voluto escludere nessuna delle voci importanti e anche dei giovani promettenti, come dicevo, che potessero dedicare appunto a Roma una poesia particolare. Quindi noi abbiamo pensato a un contenuto assolutamente originale e al tempo stesso anche una forma molto contemporanea. Quindi abbiamo escluso tutta la retorica, le poesie desuete, i neoromantici, che sono di gran moda ma che purtroppo sono ormai passati, nel senso che appartengono a un periodo datatissimo che non volevamo assolutamente ripetere. Quindi novità assoluta. Riesce ancora, nonostante le tante problematiche che la affliggono Roma ad ispirare? Sì, come no, assolutamente. Roma, appunto, come dicevo, è eterna ma non è una parola vuota, è una parola assolutamente moderna che noi vogliamo assolutamente rilanciare e quindi ispira da tutti i punti di vista perché è talmente ricca, talmente straordinaria, talmente sfaccettata questa realtà romana che è veramente fonte continua di ispirazione per i poeti. Un progetto che vuole esaltare la parte più bella e vera della capitale d'Italia? Ecco l'intento principale di un testo tutto da scoprire. Grazie.